Abbiamo tutti gli ingredienti, tutte le alchimie per ripartire più forti che prima. Abbiamo i paesaggi, le vedute, gli scorci, la musica, la notazione, gli strumenti, la tradizione, la preghiera, l'architettura, la prospettiva, la pittura, l'azzurro dei cieli incontaminati, l'oro dei doni, il rosso dei damascati, il giallo dei broccati, i codici, i cartigli, l'inchiostro che trasuda saggezza, gli intelletti, il tempo, la leggerezza, l'ironia, il gusto, la spiritualità e il sacro, la dote del passato. Facciamone tesoro per ricostruire le fondamenta culturali del nostro futuro. Facciamolo gustare ai nostri figli e rendiamone partecipe il mondo. La Fondazione Collezioni Bernardini e l'Associazione Arte e Musica nelle terre del Perugino augurano un Natale di serenità e un 2022 nel segno della bellezza.